Eta, vorrei raccontarti di come Ripto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Bene, la settimana scorsa, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi superportali. Ecco, l'ultima sfera ora è a posto. Vediamo, ci servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475. È il mio compleanno. No, Hunter, no. Cosa? Inutili buffoni! Perché nessuno di voi... Dove siamo? Mh, niente draghi. Fantastico. Grash, torna a prendere le valigie. Ci fermiamo qui. Salutate il vostro nuovo re. Professore, lo spenga. Presto! Oh cielo, oh cielo! Non vedo l'interruttore. Devo di essermi rotto gli occhiali. Grash, attraversa il portale, idiota! Dì alle tue amiche di spargere le sfere in tutta Avalar. Presto! No! Gol! Grash! Prendete subito le sfere! Braw! Piccola creatura spregevole! Via nientero! Che pessime notizie per Avalar. Hunter, perché non l'hai inseguito? Oh, ecco, io volevo inseguirlo, ma... Sbaglio o ha detto che non gli piacciono i draghi? Professore, se catturassimo apposta un drago? Sì, sì, penso di sì. Avremo bisogno di un mondo con un allineamento più adatto a intercettare simili creature. Che ne dite di... Barlume? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Hai anche riuscito a sconfiggere quel sempliciotto, ma Gulp ti darà tanto filo da torcere. Fatti sotto, dai. Gulp, vieni subito qui! Distruggilo e fagli tanto male! Masa, Gulp! Tirami fuori di qui! Addio, Drago! Che fifone! Grazie a tutti! Quel ripto ne ha fatti abbastanza di danni! Le sue azioni mi sono costate una fortuna! Se non fosse per sbaglio sarei sull'astrico! Se ripto fosse qui, adesso gliene canterei quattro! Anzi, farei sicuramente di più! Ero campione di pugilato ai tempi dell'università! E ricordo ancora qualche mossa! Prendi questo! E questo! Ma tu! Tu! E الف данma diario' A B Di E D D